Nel mio piccolo mi emoziono, per non dire altri aggettivi, quando chiamo anche un negozio, come mi è capitato qualche giorno fa, ho dovuto rifare gli occhiali, sono andato a fare una visita oculistica per comprare degli occhiali ed è stato bello quando due giorni dopo li ho chiamati e tramite il mio numero loro sapevano chi ero, buongiorno signor Ramos, come posso esserle d'aiuto? Un negozio di occhiali, quando poi ci sono aziende concessionali che fatturano milioni, e no, ora il negozio di occhiali io tornerò da lui, tornerò da lui per come mi ha accolto, perché sa come mi chiamo, perché quando entro con un appuntamento c'è una persona che mi aspetta, è il signor Ramos, e cambia tanto, e io spendo 50 euro in più probabilmente, ma magari anche qualcosina in più, ma io so che quando torno ho la mia dignità di cliente, Cosa che molto spesso, purtroppo, quando parliamo di automobili, 30, 40, 50 mila euro, questo non avviene e farebbe tanto, 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 tanto la differenza, soprattutto oggi, che domani le concessionarie, come dicevo prima, diventeranno agenzie e avranno necessità imperativa di questo tipo di atteggiamento, perché visto che non ci sarà differenza fra me e il competitor, io ho bisogno di fare la differenza. Grazie a tutti.